attenzione via da bordo via da tribordo via da qualche parte ma come abbiamo fatto a ridurci così? buongiorno dai due in cammino oggi vi raccontiamo come è nata la passione in kayak quindi come abbiamo iniziato come abbiamo iniziato? non so, raccontalo tu racconto io? ok tutto è nato nel lontanissimo 2020 eravamo al mare a Liborno vicino alla spiaggia dei Tamerici e abbiamo visto un ragazzo che montava appunto gonfiava il kayak gonfiabile quindi prima la seggelina montava le pagaie gonfiava anche il kayak e poi andava all'arco sì era quel kayak verde che magari vedete su Amazon che ha un basso prezzo quello della Intex il pisellone verde lo chiamiamo perché c'è monoposto e biposto se proprio volete vedere com'è un kayak gonfiabile e non volete spendere un capitale potete cercare uno di quelli non è proprio il massimo però per togliervi la curiosità comunque dopo averlo visto che prendeva a largo è nata la scintilla quindi ci siamo poi informati su questo coso qui verde cosa faceva e insomma le sue funzioni e poi abbiamo iniziato anche noi lui aveva già avuto esperienza di kayak? no, di kayak no, di kayak poca roba niente particolarmente impegnativo niente discese di quarto livello cose normali giusto l'approccio al kayak a cosignare in fiume cose molto tranquille io no con tutto che sono nata in città di mare ho sempre vissuto in città di mare vabbè un attimo il kayak marino è diverso il kayak su fiumi e su laghi poi magari ci arriviamo e presi quindi qualche abbiamo fatto siamo andati al lago di Pusiano dove c'è un campeggio e la noleggio canoe e lì ho fatto prima volta che anch'io salivo su una canoa perché io ho sempre fatto il kayak ecco appunto non fate come facciamo noi se non altro l'abbiamo fatto al lago per cui gli ho fatto vedere un po' come le manovre le manovre base quindi poi ve li linkiamo e da lì ho visto che mi piaceva l'idea di appunto della pagaiata quindi ci siamo procurati un kayak un entry level l'itiwit 3 di Decathlon quello che noi abbiamo chiamato la carotona per la colorazione con una poca fantasia un poca fantasia e da lì abbiamo iniziato ovviamente vivendo in Lombardia abbiamo colorizzato i laghi della Brianza che comunque sono tranquilli insomma possibilità di fare danni ce ne dovrebbero essere bisogna prestare attenzione anche sull'aghi della Brianza perché comunque sei un elemento che non ti è favorevole l'acqua non è tua amica l'acqua non è tua amica ricordatevelo poi è arrivato il lockdown quindi siamo rimasti fermi e poi l'anno dopo quindi il 2021 appena c'è stato possibile ritornare in acqua l'abbiamo fatto in grande stile infatti con un upgrade a nostra attrezzatura nuovo kayak nuove pagaie nuovi giubbotti di salvataggio noi abbiamo sempre usato gli pfd i personal floating device o giubbottini di salvataggio e poi ci si è aperta una nuova prospettiva per cui abbiamo iniziato anche con i fiumi ovviamente fiumi tranquilli massimo siamo arrivati al secondo grado di white water in base alla classificazione vigente e principalmente abbiamo fatto l'adda abbiamo disceso l'adda dall'ecco fino a quando sfocia nel po' abbiamo disceso il ticino da sesto calende e anche lì siamo arrivati al Po e poi abbiamo percorso anche diversi tratti del Po che è un fiume molto tranquillo l'unica cosa è molto è molto largo ha una bella portata è pigro però non è da sottovalutare ci possono essere mulinelli anche sul Po e zone dove magari non c'è un gran ricambio d'acqua e dove si tende ad accumulare magari l'ammoniaca degli scarichi ecco sono zone un po' pericolose da evitare perché le esalazioni possono essere pericolose siamo tornati anche al mare quindi siamo andati di nuovo a Livorno ma con un tragitto più lungo molto più lungo come potete vedere da Livorno siamo arrivati a Castigencello e poi siamo andati in Liguria da Portovenere abbiamo fatto il periplo della Palmaria del Tino del Tinetto delle belle gite lunghe possiamo parlare un pochino magari dei kayak della tezzatura che si è sosseguita nel corso del tempo dopo la carotona infatti cosa ci siamo presi? in realtà volevo parlare prima della carotona perché se vogliamo dare dei consigli a chi inizia direi di iniziare dalle basi diciamo il kayak della Decathlon è l'Itiwitt cioè da un posto due posti tre posti allora noi siamo in due siamo in una coppia e per cui abbiamo scelto un kayak al biposto in realtà abbiamo preso quello da tre posti perché lo spazio non è non è granché abbondante su questi tipi di kayak per cui il kayak da due posti della Decathlon è un po' stretto se dovete fare un'uscita dalla spiaggia un'oretta di pagaiata andate un po' a largo prendere il sole per cui vi portate una bottiglia d'acqua un'asciugamana non è che vi portate altro allora va bene se volete fare una bella gita come facciamo noi lunga una discesa di un fiume tranquillo oppure tutto un giro di un lago magari portate lo zaino vi portate il carrellino soprattutto il carrellino per trasportarlo il carrellino sarà il vostro migliore amico il vostro migliore amico per cui lo spazio comincia a scasseggiare e per cui direi se siete in due e volete provare un kayak Decathlon andate direttamente sulla versione da tre posti è un kayak è un kayak diciamo molto robusto e soprattutto è adatto ai principianti perché ti perdona molto gli sbagli perché è molto largo è un kayak molto largo è un metro è 108 cm di larghezza per cui nei kayak la larghezza è sinonimo di stabilità poi il fondo è più o meno piatto non è ad alta pressione perché un po' si deforma quando vi ci sedete se vi si siede una persona sola in mezzo nel kayak da tre posti c'è proprio l'effetto banana perché il kayak si piega proprio si alzano le estremità e si piega al centro in due questo effetto è meno accentuato però comunque c'è e dicevo è molto stabile per cui perdona molto diciamo perdona molto gli errori di contro è molto lento perché ovviamente non si può avere sia la stabilità che una velocità da primato è ottimo per imparare è un kayak che dicevo robusto perché è un kayak rivestito ha un tessuto esterno estremamente estremamente resistente all'abrasione e anche al e anche al come si chiama alle punture quando per esempio di rami che si infilano dentro nel kayak cosa del genere è resistentissimo è questo resistente e hai dotato di camere interne che possono essere sostituite anche singolarmente per cui se dovresti danneggiarne una basta cambiare solo quella camera ha due camere laterali e il fondo per cui ha tre camere d'aria ed è veramente difficile che in un kayak si sgonfino contemporaneamente tutte e tre le camere si vede che vi siete messi proprio in una pessima situazione per riuscire a bucare tre camere d'aria contemporaneamente o siete caduti giù in una chiusa di una diga e allora in quel caso potreste avere dei problemi ben maggiori rispetto al kayak che prende acqua perché altrimenti i kayak anche con due o perfino con una camera d'aria sola ancora in buono stato tendono a stare a galla comunque alla peggio vi si potete aggrappare e poi da lì a forza di gambe nuotandovi vi dirigete alla riva più vicina perché come dicevo è un kayak molto sicuro io consiglio anche con questo kayak consiglio comunque di usare i giubbottini di salvataggio vedo gente che non li usa oppure che li tiene adagiati nel kayak il problema è che quando ce l'hai bisogno se non ce l'hai già addosso devi spacchettare tutto no quando ce l'hai bisogno se non ce l'hai già addosso vuol dire che è già troppo tardi ecco è come il casco della moto quando hai bisogno del casco se ce l'hai se ce l'hai in testa perché stai cadendo ok ma se stai cadendo non puoi girarti prendere il casco e mettetelo in testa e continuare la caduta cos'è? non è Matrix la realtà insomma e un altro accorgimento sono le pagaglie siccome è un kayak molto largo serve una pagaglia estremamente lunga dimenticatevi il fatto che le pagaglie si acquistano in base alla propria altezza maggiorata del braccio alzato per un kayak gonfiabile aperto come questo della Itiwit bisogna andare almeno su 2 metri e 40 di pagaglia indipendentemente dalla vostra altezza 2 metri e 40 anche per lei che è un metro e 53 perché altrimenti riempite d'acqua il kayak mentre pagagliate e potreste anche continuare a sfregare nei bordi del kayak per quella lunga potreste un po' consumarsi perché ha dei tubolari estremamente grandi sono quasi 40 centimetri di tubolari poi comunque nel tempo la Decathlon ha fatto anche altri kayak simili a questo però un pochino più avanzati tipo l'X100 che ha il fondo ad alta pressione e ha più pressione tubolari laterali e quello da due persone è un 20 centimetri più lungo rispetto al corrispondente vecchio Itiwit 2 sempre da due persone per cui potrebbe già andare bene quello lì e poi dopo noi abbiamo fatto un upgrade della nostra attrezzatura e siamo passati al Gumotex Swing 2 è un kayak questo è un kayak per due non per tre ed è un kayak a pozzetti non è più un sito on top come l'Itiwit ma è un kayak a pozzetti per cui si può chiudere si possono indossare le gonne in paraspruzzo infatti nella nostra discesa del Ticino da Sesto Calende era una discesa autunnale a metà ottobre bellissima abbiamo indossato le gonne in paraspruzzi e nella zona delle rapide ci sono servite perché arrivavano queste bordate d'acqua sul kayak anche a tutta fiancata e con la gonne in paraspruzzo non entravano dentro nel cockpit normalmente è abbastanza riparato anche senza gonne in paraspruzzi se è andato in un fiume più tranquillo per esempio sull'Adda anche nella parte con un po' più vivace dell'Adda abbiamo potuto farla senza gonne in paraspruzzi perché comunque l'acqua non entrava avendo acquistato delle pagaie da 222 cm non c'entrava acqua mentre le pagaie avevamo per cui eravamo tutto sommato all'asciutto e questo è un kayak molto interessante perché innanzitutto si gonfia il doppio della pressione dell'ITWIT per cui più alta la pressione e più è diciamo più è rigido più mantiene la forma il kayak per cui fila meglio in acqua e soprattutto è un kayak fatto di un materiale speciale il nitrilon lo ho fatto da loro si è della Gumotex che è un'azienda cieca per cui questo kayak è stato fatto qui in Europa è un materiale con cui si fanno anche è simile a quello con cui si fanno i gommoni per cui è molto più resistente di altri materiali in più è anche un materiale ecologico perché non contiene non contiene PVC per cui non è cancerogeno e tra l'altro è un materiale molto leggero perché il nostro kayak con tutto che è più lungo rispetto a quello della Decathlon e ha anche dei sostegni in alluminio diciamo per dare la forma al ponte di coperta pesa più di 5 kg in meno rispetto all'altro kayak potete immaginare quando c'è la portata in giro oppure quando dovete togliere dall'acqua per fare un trasbordo è molto più semplice un kayak più leggero tant'è che lo posso portare senza problemi nella sacca stagna che è indossabile come uno zainetto per cui ci sono tutti i nostri video dove usiamo la sacca stagna dove facciamo i trasbordi magari vi lasciamo qui sotto in descrizione è un kayak molto valido perché ha una diciamo una buona velocità è più stretto del litiguit perché sono 86 cm contro 108 però di contro per come è fatto i tubulari sono molto più stretti e hanno comunque contengono più aria perché sono al doppio della pressione lo spazio interno del cockpit è di 2 cm superiore rispetto a quello del litiguit per cui abbiamo più spazio in questo che è più stretto che nell'altro che è più largo ovviamente è un pochino meno stabile rispetto al litiguit però comunque 86 cm sono ovviamente tanto per un kayak parlate con chiunque magari usi un kayak rigido che vanno dai possono scendere anche sotto i 60 cm è un pochissimo spazio quindi un pochissimo spazio ovviamente sono così stretti sono anche molto più veloci sono meno stabili diciamo che si affida alla stabilità hanno una stabilità primaria adatta allo scaffo e la stabilità secondaria è quando in manovra ti inclini sul fianco allora una volta che sei inclinato sul fianco ritrova la propria stabilità con il gonfiabile è diverso il gonfiabile è al fondo al fondo piatto che sia a pressione normale o che sia ad alta pressione sempre piatto rimane per cui è molto più difficile di inclinarlo per fare le mani manovre per cui va condotto in modo leggermente diverso rispetto agli altri kayak poi prima dicevamo che c'era una differenza tra kayak marino e kayak lacustre e su fiume il kayak marino non so se li avete visti anche il kayak singolo è molto molto più lungo rispetto ai kayak d'acqua dolce anche più di 5 metri per un kayak singolo sono molto stretti molto slanciati e comunque servono a fendere le onde perché non hanno non hanno a che fare con le rapide ma hanno a che fare con il moto ondoso del mare che in alcuni casi quando il mare è formato oppure il mare è quasi mosso può essere anche molto più difficile da affrontare rispetto alle rapide di un fiume per cui c'è tutta una serie di manovre diverse rispetto al kayak fluviare ovviamente il kayak marino di solito ha anche il timone perché essendo così lungo è difficile timonarlo solo con la pagaia insomma se avete bisogno di magari uno spostamento repentivo per affrontare un'onda che vi arriva da una certa direzione dovete essere molto manovrabili per cui niente noi siamo ci siamo orientati sul kayak gonfiabile soprattutto perché è molto molto pratico eh sì perché lo pieghi lo porti in giro allora innanzitutto diciamo il rimessaggio a casa o avete spazio a casa una rimessa un garage lo appendete al soffitto in garage comunque un kayak rigido occupa spazio un kayak rigido diciamo tandem passa ampiamente i 4 metri va a 4 metri 4 metri di 50 non tutti hanno questo spazio in più per portarlo dai per l'acqua lo specchio d'acqua che avete deciso di navigare vi serve o un vero e proprio carrello da agganciare all'auto oppure il rack da mettere sul sul tetto e anche lì non tutti possono essere così contenti di montare una cosa del genere sull'auto poi bisogna essere in grado di legarlo bene perché perdere in kayak in autostrada non è facile non è semplice o felice no non è una cosa felice purtroppo è semplice ma non è una cosa felice perché se poi vai a va sulla macchina che vi segue insomma potesse causare un bel incidente e per cui c'è tutta una serie di accorgimenti in più poi fare i trasbordi con un kayak rigido il kayak rigido ovviamente è più pesante del kayak gonfiabile per cui fare un trasbordo con un kayak del genere diventa anche più problematico insomma dovreste avere dei bei muscoli e soprattutto se dovete fare una discesa del fiume voi entrate nel fiume nel punto A fate la vostra discesa che possono essere neanche un centinaia di chilometri se la fate in più giorni se fate turismo fluviale come adesso piace anche a noi per cui dovete mettervi d'accordo con qualcuno per portarvi e venirevi a prendere oppure andare con due auto uno la porta alla destinazione poi si torna indietro si mette carica in acqua capite che è tutto è tutto prende tempo spercate benzina è a vostra scelta a seconda di come vivete questa passione noi abbiamo deciso di usare i mezzi pubblici per esempio tutte le nostre a parte al mare a Livorno che vabbè si va giù in macchia perché è un po' lontano si va già per altri motivi e li approfittiamo per mettere in acqua il kayak a parte diciamo al mare a Livorno noi si è utilizzati i mezzi pubblici anche per fare il giro della palmaria abbiamo preso siamo andati alla Spezia con l'auto perché comunque eravamo in Toscana poi abbiamo preso il pullman noi con il nostro kayak montato sul carrellino abbiamo preso il pullman siamo andati a Portovenere in pullman per cui niente trauma a cercare il parcheggio che a Portovenere d'estate vi raccomando trovare il parcheggio per cui siamo andati tranquillamente siamo scesi al pullman proprio davanti alla spiaggia la spiaggia dell'olivo siamo scesi in spiaggia abbiamo gonfiato il kayak abbiamo preso abbiamo fatto il nostro giro e quando siamo ritornati alla spiaggia dell'olivo perché abbiamo fatto un giro all'anello abbiamo sgonfiato il kayak l'abbiamo pulito con la nostra spugnetta il nostro cencio l'abbiamo rimesso nella sua saccastagna da trasporto abbiamo ripreso il pullman e siamo tornati tranquillamente alla Spezia a prendere l'auto e tornare a casa mentre per il Ticino il Po e l'Adda abbiamo preso l'auto abbiamo preso semplicemente il treno l'autobus mai mi sembra forse no l'autobus no non ancora qui in Lombardia l'autobus con il kayak non l'abbiamo ancora preso abbiamo semplicemente utilizzato il trasporto ferroviario per cui abbiamo adattato le nostre traversate alle fermate dei treni sì fortunatamente ci sono parecchie fermate ferroviarie in prossimità di fiumi la distanza massima abbiamo dovuto fare a piedi allora sul Ticino è stato due chilometri e mezzo dalla stazione di Vigevano alla Lanca in cui aveva messo in acqua il kayak e quando poi siamo arrivati a Corte Sant'Andrea sul Po siamo sbarcati dove c'è il transito di Zumpadi dove i pellegrini della Francigena si imbarcano ciao signor Giovanni ciao signor Giovanni dove i pellegrini della Francigena si imbarcano per traghettare dall'altra sponda e proseguire il cammino noi siamo scesi abbiamo ottiato in secca il cario che abbiamo smontato e da lì sono stati 4 chilometri e mezzo con il vecchio carrellino che non è stata una forma una passeggiata di salute con il vecchio carrellino a luglio a fine giugno fine giugno però ce l'abbiamo fatta noi c'era il carrello si tirava il cario ogni tanto ci fermavamo per far riposare il braccio che tirava il carrello e via per cui è molto molto facile da gestire soprattutto per il trasporto e i trasbordi poi abbiamo preso il carrello della Ecla adesso abbiamo il carrello dell'Ecla Rolli che francamente è tutta un'altra tutta un'altra storia rispetto al vecchio carrellino questo porti la sacca tranquillamente a queste grosse queste grosse ruote gommate che vanno su questo tipo di terreno una ampia maniglia che si può tirare anche in due contemporaneamente per dividere la fatica lo tiro da sola io lo tiro da sola anche lei e soprattutto si può piegare in modo da utilizzarlo per i trasbordi per cui diventa praticamente un carrello per i trasbordi ci si lega sopra il kayak si prende il kayak per la sua maniglia anteriore e lo si può portare a passeggio come un cagnolino quasi non è l'aspirapolvere l'aspirapolvere si l'aspirapolvere perché la maniglia comunque non so abbiamo fatto tipo il trasbordo quello della diga di porto della torre sono quasi due chilometri e francamente è stato uno dei trasbordi più semplici che abbiamo fatto tu l'hai fatto anche al trotto ho anche corso perché comunque c'era un tratto di asfalto ho dovuto provare a correre col carrello e il kayak nessun problema il problema è stato più che altro per passare la staccionata per buttarlo rimettere il gioco impegnativo perché era un sentierino pieno di pieno di vegetazione in discesa che dava su una stretta diciamo su una stretta accenge di neanche un metro che aggettava sul Ticino vabbè però comunque non è stato un grosso problema questo è più o meno la nostra avventura abbiamo parlato della nostra attrezzatura le pagaglie non siamo ancora arrivati alla pagaglia in carbone abbiamo le pagaglie sono delle economicissime pagaglie che fanno il loro ottimo servizio sono in lega di alluminio e le pale sono in misto polipropilene e fibra di vetro però in compenso sono molto leggere sono solo 912 grammi per dire la pagaglia in carbonio della Decatron che trovate alla Decatron pesa qualcosa di più in realtà di carbonio ha solo il 40% dell'asta poi tutto il resto è comunque a fibra di vetro e polipropilene anche quella però costa il doppio delle nostre pagaglie per cui per ora va bene così però magari più avanti non escludiamo di prendere una pagaglia un pochino più è un sedile nuovo è un sedile nuovo per me perché lo Swing 2 è un kayak eccezionale tranne il sedile ha dei sedili sottilissimi non so se guardate la lunga recensione che ho fatto faccio proprio vedere il sedile è tipo un centimetro e mezzo di sedile non imbottito per un'oretta io lo reggo anche ma se faccio una bella discesa di 4, 5, 6 ore dovete fare delle pause molto frequenti perché altrimenti a fine giornata patite parecchio hai qualche consiglio da dare a chi inizia? allora intanto non fare come abbiamo fatto noi che noi siamo partiti senza un po' di esperienza nella coppia c'era poi però ecco diciamo se avete la possibilità suggerisco caldamente un corso di kayak o di canoa dove vi danno le istruzioni le basi per esempio per restare qui a Milano ci sono già sono tre società di canottieri tra cui la più antica d'Italia che è la Canottieri Milano fondata nel 1891 e poi c'è la la Canottieri Olona del 1894 fondata da Transfughi della Canottieri Milano in disaccordo con la gestione del tempo è un po' per aprire comunque come ogni cosa c'è sempre chi non va d'accordo per cui si divide e poi c'è anche la CUS del San Cristoforo che però quella del 2009 molto molto più recente e mi sembra che tutte e tre offrano dei corsi la Canottieri Milano se non sbaglio fino a un po' di tempo fa offriva un corso di kayak offriva un corso di kayak fluviale su quattro giornate due di teoria e due di pratica e aveva anche un corso tutto sommato contenuto insomma intorno al centinaio di euro cosa non eccessivo certo mi sembra che si bisognasse anche iscriversi all'associazione però quella non è una gran spesa e tra l'altro potrebbe tornare utile per comunque avere altre persone dell'ambiente che condivinano la sua passione con cui cambiarsi consigli cambiarsi dritte su dove andare a kayakare oppure semplicemente per andare a fare kayak insieme perché un consiglio che do è di non fare kayak da soli noi siamo in due sarebbe ancora meglio se fossimo in due su due kayak diversi noi siamo in due sullo stesso kayak però non andate da soli se siete da soli non andate da soli a fare kayak perché può capitare di tutto anche semplicemente un malore magari siete anche siete anche al lago in un posto dove non è particolarmente difficile da affrontare per esempio il lago di Como è una cosa è un discorso a parte perché quando si alza il tivano quando si alza il no quello non era è il ventone perché il tivano è normale il tivano alle sue ore soffia con una certa forza però un vento ad ore sì il tivano la breva il tivano la mattina la breva quando si avvicina poi il mezzogiorno si divertono questi venti invece il ventone che c'è in alcune condizioni meteorologiche particolari durante alcuni momenti dell'anno c'è questo vento che è micidiale può arrivare a 80 km all'ora noi abbiamo provato sulla nostra penne abbiamo trovato a più di 50 km all'ora ovviamente che soffiava contro di noi dopo un quarto d'ora di pagaiata ci siamo accorti che invece di andare in avanti avevamo perso 50 metri di distanza poi arriverà il video della nostra esperienza abbiamo tirato fuori il caia perché bisogna sapere quando deve esistere nonostante le previsioni del tempo noi siamo fidati al previsione del tempo che davano tutt'altro tutt'altre condizioni di climati e condizioni di vento infatti abbiamo aspettato anche a riva a bordo lago che in base a quello che diceva non spoilerare che c'è dei video comunque noi non siamo andati all'avventura noi siamo usciti con diciamo dopo aver controllato il meteo ecco un'altra cosa da fare è controllare sempre il meteo controllate sempre il meteo l'attrezzatura deve comprendere elementi di sicurezza come il giubbottino qualche cima per legarsi per ancorarsi possibilmente essere in compagnia non essere da soli se poi avete fatto almeno un corso base è ancora meglio altri consigli? non lo so ci sono gruppi cercati in giro oltre ai gruppi delle società di canottaggio ci sono anche magari gruppi su facebook di gente che condivide questa passione per esempio c'è il gruppo quello di Too Speed Too Speed & Music no Canò aspetta escursioni in caia e sono iscritto io non mi ricordo mai i nomi dei gruppi e comunque l'admin è Marco di Too Speed & Music e anche lui è un personaggio ha fatto prima ha fatto un tentato a deciso del Po su una zartera costruita da bottiglie di plastica ha fatto un bel pezzo prima di provare poi ha dovuto gestire la spugna e ci ha riprovato qualche mese dopo con un kayak della Decathlon per cui un kayak entry level il Po non è così difficile da navigare più che altro tanta fatica perché ha poca corrente nel periodo in cui l'ha fatto lui l'ha fatto a luglio noi abbiamo fatto qualche giorno qualche settimana prima di qualche anno dopo ovviamente e in effetti la corrente era poca e si fa quasi tutto a forza di braccia e poi è riuscito per cui è riuscito per partire dalle porte di Torino è riuscito ad arrivare alla foccia del poco su kayak della Decathlon mi è piaciuto è anche bello il video perché comunque è appassionante altrimenti altri video simili sono soprattutto stati girati da tedeschi e austriaci che oltre a fare kayak e canoa nel loro paese vengono spesso e volentieri in Italia perché comunque il Ticino il Tagliamento il Piave il Toce mi sembra anche sono fiumi abbastanza frequentati soprattutto da stranieri poco da italiani non ha più da stranieri e ci sono tutta una serie di video per esempio Steve Flusswanderer oppure River Walker dove vengono anche qua in Italia hanno dei video del Ticino del Pò del Piave e del Tagliamento il Tagliamento è bellissimo infatti speriamo di farlo presto vedremo di migliorare le nostre capacità tecniche e vedremo sia soprattutto a lei perché vogliamo fare questa discesa è una discesa che faremo su più giorni perché abbiamo scoperto il turismo fluviale è sempre una cosa che va molto all'estero in Italia un po' meno ho visto Molinari e comunque si marco sempre marco di 2 speed con la tenda semplicemente si tratta di quando si finisce di pagaiare si pianta la tenda in una zona favorevole del fiume cercate di non metterla troppo vicino all'acqua perché se sale se sale il livello del fiume perché qualche giorno prima ha piovuto e arriva l'ondata di piena vi svegliate con l'acqua con la tenda che galleggia si tratta semplicemente di qualcosa bisogna essere molto rispettosi della natura bisogna portarsi via i rifiuti bisogna seppellire quello che non si può portare via non so se ci siamo capiti però è una bella esperienza lasciate pulito mi raccomando è veramente una bella esperienza tutto sommato mi raccomando se avete qualche domanda da farci come al solito scrivi fiumi che vorreste che facessimo un attimo se questi dicono andate a fare l'Adda su in Valtellina dove è tutto quarto grado bisogna conoscere i propri limiti non strafare e sapere anche fermarsi come abbiamo fatto noi perché il divertimento non è tutto c'è anche la sicurezza ci può essere divertimento anche con la sicurezza per cui casco allacciato sempre come diceva Cerghini luce accese casco se siete sulle rapide del quarto grado anzi dal terzo grado in poi il casco è veramente aspicabile alla prossima se avete domande ci sono i commenti fare la posta per lasciarcene ciao ciao